ciao a tutti oggi prepareremo la crema al mascarpone pastorizzata il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più due ore per il raffreddamento ingredienti sono mascarpone zucchero uova e panna vegetale via la ricetta prima di iniziare la ricetta riponiamo in frica il mascarpone e la panna che ci serviranno successivamente posizioniamo la farfalla all'interno del boccale mettiamo lo zucchero e le uova e azioniamo il bimbi per 10 minuti 80 gradi velocità a 4 adesso riponiamo il boccale in frigo per almeno due ore o sino a quando non si sarà raffreddato in tutto il composto senza il coperchio trascorse le due ore abbiamo ripreso il boccale dal frigorifero abbiamo ripreso anche il mascarpone e la panna vegetale la versiamo all'interno del boccale chiudiamo con il coperchio senza il misurino e la facciamo montare per due minuti a velocità a 4 a questo punto aggiungiamo il mascarpone spingiamo il mascarpone verso il fondo del boccale chiudiamo di nuovo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimbi per altri due minuti sempre a velocità a 4 la crema al mascarpone pastorizzata è pronta trasferiamo in una ciotola crema al mascarpone pastorizzata può essere utilizzata per il tiramisù guarnire la creme tartare farcire torte e bignè può essere mangiata al cucchiaio grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti